coricatosi accanto alla moglie che già dormiva voltata verso il lettuccio su cui giacevano insieme i due figliuoli spatolino disse prima le consuete orazioni si intrecciò poi le mani dietro la nuca strizzò gli occhi e senza badare a quello che faceva si mise a fischiettare come era solito ogni qual volta un dubbio o un pensiero loro devono dentro non era propriamente un fischio ma uno zufolio sordo piuttosto la fior di labbra sempre con la medesima cadenza a un certo punto la moglie si destò ah ci siamo che ti è accaduto niente dormi buonanotte si tirò giù voltò le spalle alla moglie e si raggrinchò anche lui da fianco per dormire ma che dormire la moglie allora gli allungò un braccio sulla scheda a pugno chiuso què la smetti bada che mi svegli i piccini hai ragione sta zitta ma tormento si sforzò davvero di scacciare dalla mente quel pensiero tormentoso che diventava così dentro di lui come sempre un grillo canterino ma quando già credeva ad averlo scacciato questa volta non aspettò neppure che la moglie gli allungasse un altro pugno più forte del primo saltò dal letto esasperato che fai dove vai gli domandò quella e lui mi rivesto mannaggia non posso dormire mi metterò a sedere qua davanti la porta sulla strada aria aria insomma riprese la moglie si può sapere che diavolo te è accaduto che quella canaglia proruppe allora spatolino sforzandosi di parlar basso quel farabuto quel nemico di dio chi chi ciancarella il notaio lui mi ha fatto dire che mi vuole domani alla villa ebbene ma che può volere da me un uomo come quello me lo dici porco salvo il santo battesimo porco e dico poco aria aria afferrò così dicendo una seggiola riaprì la porta la riaccostò dietro di sé e si pose a sedere sul vicoletto addormentato con le spalle appoggiate al muro del suo casalino un lampione a petrolio ripresso sonnecchiava l'anguido verbelando del suo lume giallastro l'acqua putrida d'una pozza seppure era acqua giù tra l'acciottolato quagobbo l'ha avallato tutto sconnesso e logoro dall'interno delle casupole in ombra veniva un tanfo grasso di stalla e a quando a quando nel silenzio lo scalpitare di qualche bestia tormentata dalle mosche un gatto che strisciava lungo il muro si arrestò obliquo e guardingo spatolino si mise a guardare in alto nella striscia di cielo le stelle che vi fervevano e guardando si recava alla bocca i peli dell'alida barbetta rossiccia piccolo di statura quantunque fin da ragazzo avesse impastato terra e calcina aveva anche di signorile nell'aspetto a un tratto gli occhi chiari rivolti al cielo gli si riempirono di lacrime si scosse sulla seggiola e asciugandosi il pianto col dorso della mano mormorò nel silenzio della notte aiutatemi voi cristo mio da che nel paese la consorteria clericale era stata battuta e il partito nuovo degli scomunicati aveva invaso i seggi del comune spatolino si sentiva come in mezzo a un campo nemico tutti i suoi compagni di lavoro come tante pecore si erano messi dietro ai nuovi capolioni e stretti ora in corporazione spadroneggiavano con pochi altri operai rimasti fedeli alla santa chiesa spatolino aveva fondato una società cattolica di mutuo soccorso tra gli indegni figli della madonna addolorata ma la lotta era impari e le beffe dei nemici e anche degli amici e la rabbia dell'impotenza avevano fatto perdere a spatolino il lume degli occhi si era intestato come presidente di quella società cattolica a promuovere processioni illuminarie e girandole nella ricorrenza delle feste religiose osservate prima e favorite dall'antico consiglio comunale e tra i fischi gli urli e le risate del partito avversario ci aveva rimesso le spese per san michele arcangelo per san francesco di paola per il venerdì santo per il corpus domini e insomma per tutte le feste principali del calendario ecclesiastico così il capitaluccio che gli aveva finora permesso ad assumere qualche lavoro in appalto si era talmente assottigliato che gli prevedeva non lontano il giorno che da capomastro muratore si sarebbe ridotto a misero giornante la moglie già da un pezzo non aveva più per lui né rispetto né considerazione sarà messa a provvedere da sé ai suoi bisogni e a quelli dei figlioli lavando cucendo per conto d'altri facendo facendo ogni sorta di servizi come se lui stesse in ozio per piacere ma se la corporazione di quei figli di cane assumeva tutti i lavori che pretendeva la moglie che gli rinunciasse alla fede rinnegasse dio e andasse a iscriversi al partito di quelli ma si sarebbe fatto tagliare le mani piuttosto nozio intanto lo divorava gli faceva di giorno in giorno crescere l'orgasmo e il puntiglio e lo inveleniva contro tutti ciancarella il notaio non aveva mai parteggiato per nessuno ma era pur notoriamente nemico di dio ne faceva professione da che non esercitava più quell'altra del notaio una volta aveva usato fin anche daizzare i cani contro un santo sacerdote don la gaipa che si era recato da lui per intercedere in favore da alcuni parenti poveri che morivano addirittura di fame mentre egli nella splendida villa che si era fatta costruire all'uscita del paese viveva da principe con la ricchezza accumulata chissà come e accresciuta da tant'anni d'usura tutta la notte spadolino per fortuna era d'estate un po' seduto un po' passeggiando per il vicoletto deserto meditò su quell'invito misterioso del ciancarella poi sapendo che questi era solito lasciare il letto per tempo e sentendo che la moglie già si era levata con l'alba e sfaccendava per casa pensò ad avviarsi lasciandoli fuori la seggiola che era vecchia e nessuno se la sarebbe presa la villa del ciancarella era tutta murata come una fortezza e aveva il cancello sullo stradone provinciale il vecchio che pareva un rospaccio calzato e vestito oppresso da una cisti enorme sulla nuca che lo obbligava a tener sempre giù e piegato da un lato il testone raso vi abitava solo con un servitore ma aveva molta gente di campagna ai suoi ordini armata e due mastini che incutevano paura solo a vederli spatolino sonò la campana subito quelle due bestiacce s'avventarono furibonde alle sbarre del cancello e non si quietarono neppure quando il servitore accorse a rincorare spatolino che non voleva entrare bisognò che il padrone il quale prendeva il caffè nel chioschetto d'edera a un lato della villa in mezzo al giardino li chiamasse col fischio ah spatolino bravo disse il ciancarella siediti lì e gli indicò uno degli scabelli di ferro disposti giro giro nel chioschetto ma spatolino rimase in piedi col cappelluccio roccioso ingessato tra le mani tu sei un indegno figlio è vero sì signore e me ne vanto della madonna addolorata che comandi ad adarmi ecco disse ciancarella ma invece di seguitare si recò la tazza alle labbra e trasse tre sorsi di caffè un tabernacolo e un altro sorso come dice vorrei costruito da te un tabernacolo ancora un sorso un tabernacolo proprio signoria sì sullo stradone di fronte al cancello un altro sorso l'ultimo posò la tazza e senza asciugarsi le labbra si levò in piedi una goccia di caffè gli scese da un angolo della bocca tra gli irti peli della barba non rifatta da parecchi giorni un tabernacolo dunque non tanto piccolo perché c'è da entrare una statua grande al vero di Cristo alla colonna alle pareti laterali ci voglio allogare due bei quadri grandi di qua un calvario di là una deposizione insomma come un camerotto agiato su un otoccolo alto un metro col cancelletto di ferro davanti e la croce su si intende hai capito? spatolino chinò più volte il capo con gli occhi chiusi poi riaprendo gli occhi e traendo un sospiro disse ma vos signoria scherza è vero? scherzo? perché? io credo che vos signoria voglia scherzare mi perdoni un tabernacolo vos signoria a lei c'è uomo Sancarella si provò ad alzare un po' il testone raso se lo tenne con una mano che rise in un suo modo speciale curiosissimo come se frignasse per via di quel malanno che gli opprimeva la nuca e che? disse non ne son forse degno secondo te? ma no signore scusi si affrettò a negare spatolino stizzito infiammandosi perché vorrebbe vos signoria commettere così senza ragione un sacrilegio si lasci pregare e mi perdoni se parlo franco chi vuol gabbare vos signoria io no io no io non lo gabba io vede tutto e non si lascia gabbare da vos signoria gli uomini ma vedono anche loro e sanno che vos signoria che sanno imbecille gli gridò il vecchio interrompendolo e che sai tu di dio verme di terra quello che te n'hanno detto i preti ma dio va 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 io mi metto a ragionare con te adesso hai fatto colazione? no signore brutto vizio caro mio dovrei dartela io ora eh? no signore non prendo nulla ah esclamò ciancarella con uno sbadiglio ah i preti figliuolo i preti ti hanno sconcertato il cervello vanno predicando è vero che io non credo in dio ma sai perché? perché non do loro da mangiare ebbene sta zitto ne avranno quando verranno a consacrare il nostro tabernacolo voglio che sia una bella festa spatolino perché mi guardi così? non credi? o vuoi sapere come mi sia avvenuto in mente? in sogno figliuolo ho avuto un sogno l'altra notte ora certo i preti diranno che dio mi ha toccato il cuore dicano pure non me ne importa nulla dunque siamo intesi eh? parla smuoviti sei all'occhito? sì signore confessò spatolino aprendo le braccia ciancarella questa volta si prese la testa con tutte e due le mani per ridere a lungo bene poi disse tu sai com'io tratto non voglio impicci di nessun genere so che sei un bravo operaio e che fai le cose a modo e onestamente fa da te spese e tutto senza seccarmi quando avrai finito faremo i conti in tabernacolo hai capito come lo voglio? sì signore quando ti metterai all'opera per me anche domani e quando potrà essere finito? spatolino stette un po' a pensare eh poi disse se deve essere così grande ci vorrà almeno che so un mese sta bene andiamo ora a vedere insieme il posto la terra dall'altra parte dello stradone apparteneva pure al ciancarella che la lasciava incolta in abbandono l'aveva acquistata per non aver soggezioni lì davanti alla villa e permetteva che i pecorai vi conducessero le loro greggiole a pascolare come se fosse terra senza padrone per costruirvi il tabernacolo non si doveva dunque chiedere licenza a nessuno stabilito il posto lì proprio di rimpetto al cancello il vecchio rientrò nella villa e spatolino rimase solo non la finì più poi si avviò cammina e cammina si ritrovò quasi senza saperlo dinanzi la porta di don la gaipa che era il suo confessore si ricordò dopo aver bussato che il prete era da parecchi giorni a letto infermo non avrebbe dovuto disturbarlo con quella visita mattutina ma il caso era grave entrò don la gaipa era in piedi e tra la confusione delle sue donne la serva e la nipote che non sapevano come obbedire agli ordini che gli impartiva stava in calzoni e maniche di camicia in mezzo alla camera a pulire le canne di un fucile il naso vasto e carnoso tutto bucherato dal vaiuolo come una spugna pareva gli fosse divenuto dopo la malattia più abbondante di qua e di là divergenti quasi per lo spavento di quel naso gli occhi lucidi neri pareva volessero scappargli dalla faccia gialla disfatta mi rovinano spatolino mi rovinano è venuto poco fa il garzone baccalà a dirmi che la mia campagna è diventata proprietà comune già roba di tutti i socialisti capisci mi rubano l'uva ancora a cerba i fichi d'india tutto il tuo è il mio capisci il tuo è il mio gli mando questo fucile alle gambe gli ho detto tira loro alle gambe cura di piombo ci vuole rosina papera 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 un'altra po' d'aceto ti ho detto è una pezzuola pulita che volevi dirmi figliuolo mio spatolino non sapeva più da che parte cominciare appena gli uscì di bocca il nome di ciancarella una furia di male parole all'accenno della costruzione del tabernacolo vide don la gaipa trasecolare un tabernacolo sì signore a lecce omo vorrei sapere da vostra reverenza se debbo farglielo lo domandi a me pezzo d'asino che gli hai risposto spatolino ripete quanto aveva detto al ciancarella e altro aggiunse che non aveva detto infervorandosi alle lodi del prete battagliero benissimo e lui muso di cane ho avuto un sogno dice imbroglione non starci a credere imbroglione se dio veramente gli avesse parlato in sogno gli avrebbe suggerito piuttosto di aiutare un po' quei poveretti dei lattuga che non vuole riconoscere per parenti solo perché sono divoti e fedeli a noi mentre protegge i montoro capisci quegli atei socialisti a cui lascerà tutte le sue ricchezze basta che vuoi da me fagli il tabernacolo se non glielo fai tu glielo farà un altro tanto per noi sarà sempre bene che un tal peccatore dia segno di volere in qualche modo riconciliarsi con dio imbroglione muso di cane tornato a casa spatolino per tutto quel giorno disegnò tabernacoli verso sera si recò a provvedere i materiali due manovali e un ragazzo calcinaio e il giorno appresso all'alba si mise all'opera la gente che passava a piedi o a cavallo o quei carri per lo stradone polveroso si fermava a domandare a spatolino che cosa facesse un tabernacolo chi ve l'ha ordinato e lui cupo alzando un dito al cielo lecce omo non rispose altrimenti per tutto il tempo che durò la fabbrica la gente rideva o scrollava le spalle giusto qua gli domandava però qualcuno guardando verso il cancello della villa a nessuno veniva in mente che il notaio potesse aver ordinato quel tabernacolo tutti invece ignorando che quel pezzo di terra appartenesse pure al ciancarella e conoscendo il fanatismo religioso di spatolino pensavano che questi o per incarico del vescovo o per voto della società cattolica costruisse lì quel tabernacolo per far dispetto al vecchio usuraio e ne ridevano intanto come se Dio veramente fosse sdegnato di quella fabbrica capitarono a spatolino lavorando tutte le disgrazie già quattro giorni a sterrare prima di trovare il pancone per le fondamenta poi liti lassù alla cava per la pietra liti per la calce liti col fornacciaio e infine nell'assettar la centina per costruire l'arco cade la centina e per miracolo non accoppa il ragazzo calcinaio all'ultimo la bomba il ciancarella proprio nel giorno che spatolino doveva mostrargli il tabernacolo bello e finito un colpo apoplettico di quelli genuini e in capo a tre ore morto nessuno allora pote più levar dal capo a spatolino che quella morte improvvisa del notaio fosse la punizione di Dio sdegnato ma non credette dapprima che lo sdegno divino dovesse rovesciarsi anche su lui che pur di contragenio sarà prestato a innalzare quella fabbrica maledetta o credette quando recato si dai montoro eredi del notaio per aver pagato l'opera sua su di rispondere che nulla essi ne sapevano e che non volevano perciò riconoscere quel debito non comprovato da nessun documento come esclamò spatolino e il tabernacolo dunque per chi l'ho fatto io per l'ecceomo di testa mia oh insomma gli dissero quelli per cavarselo di torno noi crederemmo di mancare di rispetto alla memoria di nostro zio supponendo anche per un momento che gli abbia potuto davvero darti un incarico così contrario al suo modo di pensare e di sentire non risulta da nulla che vuoi dunque da noi tenti il tabernacolo e se non t'accomoda ricorri al tribunale ma subito come no ricorse al tribunale spatolino poteva forse perdere potevano forse credere sul serio i giudici che egli avesse costruito di testa sua un tabernacolo e poi c'era il servo per testimonio il servo del ciancarello appunto che era venuto a chiamarlo per incarico del padrone sant'animale e don lagaipa c'era con cui era andato a consigliarsi quel giorno stesso c'era la moglie poi a cui egli l'aveva detto e i manovali che avevano lavorato con lui tutto quel tempo come poteva perdere perdette perdette sì signori perdette perché il servo del ciancarella passato ora al servizio dei montoro andò a deporre che aveva chiamato sì spatolino per incarico del padrone sant'anima ma non certo perché il padrone sant'anima avesse in mente di dargli l'incarico di costruire quel tabernacolo lì bensì perché dal giardiniere ora morto guarda combinazione aveva sentito dire che spatolino aveva lui l'intenzione di costruire un tabernacolo proprio lì di rimpetto al cancello e aveva voluto avvertirlo che il pezzo di terra dall'altra parte dello stradone gli apparteneva e che dunque si fosse guardato bene dal costruirvi una minchioneria di quel genere soggiunse che anzi avendo egli un giorno detto al padrone sant'anima che spatolino nonostante il divieto scavava di là con tre manovali il padrone sant'anima gli aveva risposto e lascialo scavare e non lo sai che è matto cerca forse il tesoro per terminare la chiesa di santa caterina a nulla giovò la testimonianza di don la gaipa notoriamente ispiratore a spatolino di tante altre follie che più gli stessi manovali deposero che non avevano veduto mai il ciancarella e che la mercede giornaliera l'avevano ricevuta sempre dal capomastro spatolino scappò via dalla sala del tribunale come levato di cervello non tanto per la perdita del suo capitaluccio buttato lì nella costruzione di quel tabernacolo non tanto per le spese del processo a cui per giunta era stato condannato quanto per il crollo della sua fede nella giustizia divina ma dunque andavo dicendo dunque non c'è più dio istigato da don la gaipa s'appellò fu il tracollo il giorno che gli arrivò la notizia che anche in corte d'appello aveva perduto spatolino non fiatò con gli ultimi soldi che gli erano rimasti in tasca comprò un metro e mezzo di tela bambagina rossa tre sacchi vecchi e ritornò a casa fammi una tonaca disse alla moglie buttandole i tre sacchi in grembo la moglie lo guardò come se non avesse inteso che vuoi fare t'ho detto fammi una tonaca no me la faccio da me in men che non si dica sfondò due sacchi e li cucì insieme per lungo fece a quello di su uno spacco davanti col terzo sacco fece le due maniche e li cucì intorno a due buchi praticati nel primo sacco a cui chiuse la bocca per un tratto di qua e di là per modo che vi restasse il largo per il collo ne fece un fagottino prese la tela bambagina rossa senza salutar nessuno se ne andò circa un'ora dopo si sparse per tutto il paese la notizia che spatolino impazzito sarà impostato da statua di cristo alla colonna là nel tabernacolo nuovo sullo stradone di rimpetto alla villa del ciancarella come impostato che vuol dire ma si lui da cristo là dentro il tabernacolo dice davvero davvero e tutto il popolo accorse a vederlo dentro il tabernacolo dietro il cancello insaccato in quella tonaca con le marche del droghiere ancora lì stampate la tela bambagina rossa sulle spalle a modi mantello una corona di spina in capo una canna in mano teneva la testa bassa inclinata da un lato e gli occhi a terra non si scompose minimamente né alle rise né ai fischi né agli urli indiavolati della folla che cresceva a mano a mano più d'un monello gli tirò qualche buccia parecchi lì sotto il naso gli lanciarono crudelissime ingiurie lui sordo immobile come una vera statua solo che sbatteva di tanto in tanto le palpebre ne valsero a smuoverlo le preghiere prima le imprecazioni poi della moglie accorsa con le altre donne del vicinato nel pianto dei figlioli ci volle l'intervento di due guardie che per porre fine a quella gazzarra forzarono il cancelletto del tabernacolo e trassero spatolino in arresto lasciatemi stare chi più cristo di me si mise allora a strillare a spatolino divincolandosi non vedete come mi beffano e come mi ingiuriano chi più cristo di me lasciatemi questa è casa mia me la son fatta io col mio denaro e con le mie mani ci ho buttato il sangue mio lasciatemi giudei ma quei giudei non vollero lasciarlo prima di sera a casa gli ordinò il delegato a casa e giudizio vada si signor pilato gli rispose spatolino inchinandosi e quattroquattro se ne ritornò al tabernacolo di nuovo lì si parò da cristo e passò tutta la notte e più non se ne mosse lo tentarono con la fame lo tentarono con la paura con lo scherno in vano finalmente lo lasciarono tranquillo come un povero matto che non faceva male a nessuno ora c'è chi gli porta l'olio per la lampada c'è chi gli porta da mangiare e da bere qualche donnicciola pian piano comincia a dirlo santo e va a raccomandargisi perché preghi per lei e per i suoi qualche altra gli ha recato una tonaca nuova menrozza e gli ha chiesto in compenso tre numeri da giocare all'otto i carrettieri che passano di notte per lo stradone si sono abituati a quel lampadino carde nel tabernacolo e lo vedono da lontano con piacere si fermano un pezzo lì davanti a conversare col povero Cristo che sorride benevolmente a qualche loro lazzo poi se ne vanno il rumor dei carri si spegne a poco a poco nel silenzio e il povero Cristo si riaddormenta o scende a fare i suoi bisogni dietro al muro senza più pensare in quel momento che è parato da Cristo con la tonaca di sacco e il mantello di bambagia rossa spesso però qualche grillo attirato dal lume gli schizza addosso e lo sveglia di soprassalto allora egli si rimette a pregare ma non è raro il caso che durante la preghiera un altro grillo l'antico grillo canterino si ridesti ancora in lui spatolino si scosta dalla fronte la corona di spine a cui già si è abituato e grattandosi lì dove le spine gli hanno lasciato il segno con gli occhi invagati si rimette a fischiettare a fischiettare a fischiettare a fischiettare a fischiettare a fischiettare Grazie a tutti